La convivenza forzata con il passare degli anni sembra sia stata accettata dai residenti italiani che tranne rare eccezioni non temono la presenza di un numero così elevato di stranieri. L'unico disagio raccontano gli abitanti e legato ai trasporti. Gli autobus sono sempre pieni di migranti e raggiungere Foggia è diventata un'impresa. A Borgo Mezzanone sono abituati alle proteste degli africani e dei medi orientali ospitati nel vicino centro per richiedente asilo politico. All'indomani del duro scontro fra una cinquantina di stranieri e poliziotti, nel cara la vita è ripresa regolarmente. Lunedì pomeriggio gli ospiti hanno occupato per un paio d'ore la struttura per protestare contro il rigetto da parte della commissione prefettizia delle richieste di asilo politico. I residenti a Borgo Mezzanone sono più di 900, nel centro di accoglienza invece gli ospiti sono mediamente 600. Quando dei servizi che le istituzioni dovrebbero dare a una comunità piccola come Borgo Mezzanone vengono a meno è normale che si sfoci in tolleranza e nelle tensioni tra cittadini. La convivenza è pacifica, riusciamo tranquillamente a convivere con i cittadini del cara. A volte noi rimaniamo a terra e loro se ne vanno con i pulmi. Non ci danno fastidio, solo il fatto adesso troppa folla nella circolare. Oltre agli ospiti del cara nelle campagne vivono centinaia di stranieri, molti dei quali integrati da diversi anni impegnati nel lavoro in campagna. Dagli italiani spiegano non si sentono discriminati. L'italiano non è resiste, mai un italiano ha detto una cosa brutta. Sempre per me come mia famiglia. La verità è che gli italiani sono bravi e non sono rassisti. Voglio ringraziare tutti gli italiani perché sono veramente bravi.